Ciao, sono Fulvio Maiola. Oggi andiamo ad analizzare più in profondità il Rapid Spanning Tree Protocol, quindi è anche il protocollo più utilizzato nelle ultime versioni degli switch, sia per quanto riguarda la Cisco e anche per quanto riguarda altri switch che non sono della Cisco. Questo tutorial sarà lungo, dato che ci sono parecchi dettagli da definire, quindi tu qui vedrai quello che troverai sui volumi, si siene il 200-301 della Cisco in inglese e qui li trovi in italiano. È chiaro che non puoi avere tutta la documentazione in maniera precisa e perfetta, perché la documentazione è lunghissima, sono due volumi, è tantissima documentazione, però con gli strumenti che tu puoi vedere dai video puoi riuscire a capire molto ma molto meglio quello che ti dicono i volumi e questo è importantissimo. In questo tutorial tratteremo differenti situazioni nelle quali tu ti troverai quando stai lavorando con il Rapid Spanning Tree Protocol e anche, alla fine di questo tutorial, delle nozioni per quanto riguarda lo Spanning Tree Protocol e quindi anche la BPDU Guard. Quindi andremo a vedere all'inizio le regole dell'Alternate Port, poi i processi e gli stati della Rapid Spanning Tree Protocol, poi vedremo le regole di Backup Port, vedremo poi differenti tipi di porte, vedremo che cosa è Ethernet Channel, Port Fast e BPDU Guard. Ti avviso subito, questo tutorial non sarà breve ma durerà alcuni minuti. Iniziamo! Quella che vedi è una rete chiusa con tre switch ma non sta utilizzando un STP ma sta utilizzando una Rapid Spanning Tree Protocol. Quindi analizziamo bene quello che stiamo vedendo. Intanto la RSTP segue le stesse regole della STP per quanto riguarda la convenzione dei diffedenti DP Designed Port, RP Root Port e Alt Alternate Port. Utilizza la stessa convenzione della Spanning Tree Protocol. Gli switch non root che sono collegati a root, in questo caso il root è switch 1, quindi le root port sono ad esempio la GI02 della switch 2 e la GI01 della switch 3. Sono porte direttamente collegate al root port e infatti come vedi nei quadrati gialli sono di root cost 0 proprio perché sono direttamente connesse a root. Per essere alternate port da questo momento in poi la chiamerò alt port. Quando ti dico alt sai che mi sto riferendo all'alternate port. Quindi per essere alt port, la porta di un determinato switch, significa che quando ricevono un hello, quindi un BPDU da parte del switch root, una porta che è direttamente collegata come vedi è la root port e l'altra porta che invece è la porta blocked che non avevamo menzionata quando parlavamo dello Spanning Tree Protocol. Invece nel Rapid Spanning Tree Protocol quella porta è di tipo alt port e in effetti come vedi è una porta bloccata, quindi non passano i dati dei frame, i data frame, passano solo i BPDU. Quindi come avevamo visto nel precedente tutorial, la cosa che rende più rapido il Rapid Spanning Tree Protocol è proprio che nel momento in cui si interrompe una connessione per un qualsiasi motivo, la hard port immediatamente viene bloccata e si passa direttamente a questa configurazione. Quindi senza attendere il Listening State e il Learning State come in STP, ma immediatamente la hard port diventa automaticamente la porta dello switch successivo, quindi la porta dello switch 2. E da questo momento in poi, senza aspettare i precedenti 50 secondi che avevamo visto nell'STP, immediatamente la porta diventa forward e quindi non è più bloccata, proprio perché la connessione che c'è tra Switch 1 e Switch 3 per qualsiasi motivo si è scollegata, magari il cavo è caduto, magari è stato rotto o qualsiasi altro motivo. Vediamo quindi come avviene queste, come avvengono queste impostazioni. Quindi quando fallisce la connessione tra Switch 1 e Switch 3, da questo momento in poi Switch 2 e Switch 3 si scambiano un messaggio. E appunto lo Switch 3, quando riceve il messaggio, fa una transizione dalla sua porta GI02 che prima era alternate e immediatamente lo diventa la porta CI01 dello Switch 2, diventa alternate port. In questa procedura automaticamente viene provocata la pulizia della MAC Address Table all'interno dello Switch 0.2, perché all'interno dello Switch 0.2 prima non passavano i dati attraverso la porta G01 dello Switch 3, quindi vanno rimodulati tutti i MAC Address degli altri dispositivi. Le cose che ti sto dicendo adesso, se non hai visto i video precedenti, non sai di cosa sto parlando, per questo ti metto nei link i tutorial precedenti che abbiamo visto, cosa sono le MAC Address Table, perché si formano e qual è la loro motivazione. Poi nel momento in cui lo Switch 3 rende la Gigabit 0.1, nel momento in cui lo Switch 3 vede che la sua Gigabit 0.1 non c'è più connessione verso le root switch, cosa fa? Immediatamente rende la sua GI02 una root port. Questa transazione che fa lo Switch 3 è una transazione che avviene immediatamente in Forwarding State, quindi se ricordi bene, anche qui ti metto un link per andare a rivedere, se ricordi bene che quando stavamo studiando lo Spanning Tree Protocol dovevi attendere i 50 secondi, in questo caso no, in questo caso la porta è immediatamente Forwarding State, quindi passano i DataFrames e non andrai ad utilizzare i due passi che erano intermedi, ovvero come vedi questi sono in che stato è il State of Transitory, nella STP, il Listening e il Learning, erano appunto in uno stato transitorio, cioè non era uno stato stabile, perché quando è Disabled è stabile, ovvero che non passano i Frame, quando è Forwarding è stabile, perché passano i Frame, invece i due passi, Listening e Learning, sono Transitori, quindi in quel momento non passa nessun dato. Succede un qualcosa nel Learning State, ovvero che sta imparando il Mac ricevuto, però i dati, i DataFrame, comunque non passano. Andiamo a vedere invece adesso quello che sono i processi e gli stati della Rapid Spanning Tree Protocol. Qui facciamo una comparazione fra i due differenti protocolli, quindi quando la porta è disabilitata a livello amministrativo e siamo in un STP, il suo State è Disabled. Questi State, ovviamente tu dici, ma adesso perché me li scrivi così? Dove li vedo? Dove sono questo tipo di State? Questo tipo di State li andrai a vedere nell'IOS, nel tuo sistema operativo dello Switch. È lì che vedrai in che stato sono le differenti interfacce o porte. Quindi, mentre l'STP era Disabled, quando siamo nel più recente RSTP è Discarding. Quando invece nella funzione successiva la porta ignora i DataFrame e non inoltre i dati, ovvero è in Blocking, in STP, cioè quando la porta è bloccata, proprio perché è stato deciso dalla root switch che una certa porta in una rete di tre switch dovrà essere bloccata proprio per non creare un loop, nella STP è chiamata Blocking invece, nell'RSTP è chiamata anche in questo caso Discarding. Poi, lo stato Listening che avviene in STP non viene utilizzato in RSTP. Come ti ricordi, anche in questo caso ci sono, passano alcuni secondi per passare da un Listening State a un Learning State. Però nell'RSTP non è utilizzato il Listening. Invece è utilizzato il Learning State. Viene utilizzato anche in RSTP. Poi, lo stato successivo che è anche quando passano tutti i dati attraverso questa porta, che è uno Stable State, i MAC Address vengono imparati, quindi i DataFrame vengono inoltrati e questo stato è chiamato Forwarding State. Andiamo adesso a vedere le regole della porta del Backup Design. Questa rete che stai vedendo non succede sempre, perché qui stiamo parlando di quattro switch e in questi quattro switch ci sono due switch, come in questo caso lo switch 3 e lo switch 4, che sono collegati ad un hub. Anche un hub l'abbiamo visto parecchie lezioni fa e potete andare a vedere che cosa è un hub. Qual è di fatto un problema che si può creare in questa situazione, in questo contesto? Come noi sappiamo, adesso le porte che vengono gestite dagli switch, da switch 1 a switch 4, sono full duplex, mentre invece l'hub, quando trasmette i dati, è di tipo half duplex. Senza che ti sto spiegando questo, vai nelle informazioni e troverai un link che ti spiega che cosa è un hub. Un hub, diciamo che è i router che venivano utilizzati prima degli switch e di fatto avevano proprio dei problemi per quanto riguarda i loop, quindi non potevano né trasmettere né ricevere i dati allo stesso momento. Per avere meglio le definizioni di questi hub, vai nel link che ho messo in descrizione. Quindi cosa succede? Di fatto in questo caso la RSTP è un po' più lenta, ma ti ho detto, questo non è un caso che troverai molto spesso. Ti garantisco che può succedere, perché ci sono compagnie o aziende che ancora utilizzano degli hub, quindi potrà succedere una cosa del genere. E la cosa potrebbe rallentarsi, per il fatto che in un certo momento, quando si stanno comunicando i dati, lo Rapid Spanning Tree Protocol dovrà rendere tutti i dispositivi connessi all'hub in una half duplex, quindi potrebbero andare più lentamente. Ma come ti ho detto, questi non sono casi che succedono tutti i giorni, sono dei casi molto particolari e specifici. Andiamo a vedere invece adesso che cosa sono i tipi di porte, i port types. Il protocollo include alcuni termini che si riferiscono a differenti tipi di porte ed i collegamenti connessi fra queste porte. Come vedi nel disegno in basso a destra ci sono delle porte che sono point-to-point port, una porta in particolare che è point-to-point edge port e poi una shuttered port. Quindi la RSTP considera queste porte che sono point-to-point port quando collegano esattamente due switch. Allora queste qua sono le point-to-point port. La porta che invece viene collegata verso, ad esempio, un endpoint, come in questo caso un PC, queste porte sono di tipo point-to-point edge port o la porta del board, diciamo l'ultima porta di questa rete LAN. E infatti, come vedi, anche questa è collegata attraverso un PC. Poi l'altra porta che è la shuttered port, questo viene definita con il termine shuttered perché serve per descrivere le porte che sono connesse verso un hub. Come ti dicevo, gli hub sono, diciamo, tra virgolette dei vecchi switch che venivano utilizzati prima negli switch, ma che ancora potresti utilizzare, potresti trovare in una qualche azienda. Questo ci è utile. L'RSTP capisce che l'hub trasmette i dataframe in half-duplex. In questo caso particolare, l'RSTP assume che tutte le altre porte siano half-duplex perché, come ti avevo detto, gli switch 3, gli switch in generale, comunicano in full-duplex. È chiaro che la convergenza avviene più lentamente. In questo caso non è comune, lo troverai raramente, ma ti potrebbe succedere. Per finire adesso il tutorial, andiamo a vedere le caratteristiche opzionali dell'STP. Quindi in questo caso vediamo solo lo Spanning Tree Protocol perché ci sono determinati contesti in cui alcune opzioni che io qui ti sto dicendo vengono utilizzate nello Spanning Tree Protocol. Queste azioni in realtà vanno effettuate fisicamente sul sistema operativo. È chiaro che prima di poter inserire o di capire che cosa sono queste impostazioni, queste feature, bisogna capire anche cosa fanno e cosa sono. Non è una cosa difficile da fare, anzi assolutamente, sono pochi comandi da memorizzare, però è importante sapere quello che fanno. Di fatto queste opzioni migliorano il lavoro ed in un certo modo rendono anche più sicuro il lavoro che stai svolgendo quando utilizzi un certo numero di switch. Andiamo ad analizzare la Ether Channel, uno dei migliori modi per diminuire il tempo di convergenza di uno Spanning Tree Protocol è di evitarlo. La Ether Channel impedisce la convergenza STP nel caso in cui si verifica un guasto nel cavo. Ad esempio, come vedi nella figura, tra lo Switch 2 e lo Switch 3 ci sono due cavi che vengono connessi tra di loro in parallelo e uno dei due cavi viene di fatto disconnesso per un qualsiasi motivo. Magari si rompe il cavo o magari viene eliminato per una distrazione. E in questo caso, se sono in un Spanning Tree Protocol, in questo momento avviene proprio una convergenza per cercare di capire qual è il cavo migliore che possa essere scelto per essere bloccato o comunque per rendere questo forwarding e richiede un certo periodo di tempo, non meno di 50 secondi. Se noi abilitiamo da Ether Channel, come ti ho detto, lo vedremo in seguito come viene applicata fisicamente su un sistema operativo, essa avviene quando c'è una combinazione di segmenti paralleli come vedi nel grafo e la stessa speed fino ad un massimo di 8 gigabit per secondo. Ad esempio, questi sono due cavi di 1 gigabit e 1 gigabit quindi sono 2 gigabit per secondo tra Switch e Switch. Nel caso in cui un cavo fallisce, come ti ho detto, tu ne hai almeno uno. se tu attivi la Ether Channel viene immediatamente scelto l'altro cavo che funziona e non viene fatta tutta la procedura, tutta la convergenza per andare a ricercare il cavo migliore quindi quei 50 secondi di attesa quindi immediatamente i data frame passano allo stesso modo anche se un cavo si è disconnesso. è vero a qualcuno potrà sembrare un po' noioso a me piacciono queste cose perché di fatto si è noioso però quando stai utilizzando una Spanning Tree Protocol puoi renderla più veloce proprio utilizzando un Ether Channel e quindi quando si rompe un cavo tu puoi immediatamente utilizzare quell'altro senza aver problemi di ritardo proprio per la scelta di un altro cavo che viene bloccato. Poi dopo andiamo a vedere la Port Fast Port Fast permette ad uno Switch di fare una transazione immediata da Blocking State a Forwarding State bypassando i due passi intermedi come ricordi li abbiamo visti prima ovvero Listening e Learning che sono appunto due straight transitori e quindi anche questa volta risparmio quei 50 secondi di attesa per fare questi due state. È chiaro che anche questo c'è un ma perché di fatto potrebbe succedere che se sono due switch collegati tra loro magari per un qualsiasi altro motivo la che unnessione si disconnette tu immediatamente utilizzi la Port Fast scambiano immediatamente diventa da Blocked a Forwarding State però potrebbe crearsi un loop infatti il miglior modo per utilizzare le Port Fast viene utilizzato solo in casi particolari ad esempio quando ci sono delle connessioni verso dei dispositivi end user andiamo adesso a vedere invece il BPDU guard poniamo il caso che non vengano utilizzati i protocolli STP e RSTP è chiaro che ci sono dei differenti problemi proprio riguardo la sicurezza di una rete che riguarda tre switch o magari anche molti di più un attaccante potrebbe connettersi su uno switch di una di queste porte e su una di esse ha una bassa priority value quindi essa diventa root switch quindi cosa succede che uno di questi switch diventa root switch e in un certo modo può gestire gli altri switch proprio perché è lo switch radice oppure un altro differente tipo potrebbe essere che quando un attaccante si collega più porti su più switch divenendo appunto root e inizia ad inoltare più traffico in questa LAN senza che il personale che si occupa della rete si accorga di quanto è accaduto beh in questo modo magari l'attaccante potrebbe analizzare la copia di un gran numero di data frame che attraversano la rete non è una buona cosa perché posso come abbiamo fatto nelle prime lezioni abbiamo visto cosa c'è all'interno di un data frame e quante informazioni fondamentali ci sono di uno switch sappiamo che un attaccante può leggere parecchie informazioni di un certo dispositivo poi un altro tipo potrebbe essere che quando viene danneggiata una rete LAN inconsapevolmente e magari quando chi si collega a questa rete LAN deve acquistare una switch a consumo anche le switch a consumo le abbiamo fatte in precedenti lezioni senza questa funzionalità quindi di stp e rstp potrebbe essere che non ci siano porte bloccate soprattutto quando una LAN è chiusa e quindi si potrebbero creare dei loop in particolare le funzionalità della BPDU guard della Cisco aiutano a sconfiggere gli eventuali problemi che si potrebbero creare nel caso in cui non vengano disabilitate delle porte grazie ai protocolli che abbiamo fatto fino ad ora vale anche nel caso in cui si debbano risolvere problemi con una fast port quindi diciamo che le situazioni potrebbero essere tante bene come hai potuto vedere fino a questo tutorial abbiamo analizzato in maniera abbastanza profonda di quello che riguardano gli Spanning Tree Protocol e i Rapid Spanning Tree Protocol dalle prossime lezioni andremo finalmente a vedere che cos'è l'indirizzamento per il momento è tutto ci vediamo al prossimo tutorial se ti è piaciuto il corso iscriviti al canale metti un like oppure se hai dei dubbi scrivi un commento